ora quanto ho pagato noi oggi? tu quanto diri? io non parlare più oramai quanto diri tu pagare io? tu padrone pagare? non mangiare io dare 9 ore 30 euro va bene? ah oggi 6 ore 6 per 3 20 euro quanto paghi? 30 euro e mangiaria panino ok panino non buono non buono? sì non l'abbiamo mangiato oggi troppo duro 5 ore più 5 ore meno io non venire più a Campobella a prendere persone no? ho capito io Campobella non venire persone prendere non prendere più basta ho capito tutta questa roba lavoro 8 ore non 9 ore sempre bordello soldi sempre bordello no no bordello vendemmi a bordello grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.